Eccoci quindi pronti per un raggruppamento molto particolare, un raggruppamento voluto per portare alla conoscenza del pubblico il patrimonio cinotecnico italiano. Vedremo infatti il raggruppamento delle razze italiane e capiremo come nel nostro panorama cinofilo nazionale abbiamo veramente cani per ogni funzione, compresa quella della compagnia. Andiamo a conoscere il giudice di questo raggruppamento delle razze italiane, signore e signori un grande applauso per Giulio Bezzecchi dell'Italia, grazie per essere qui con noi. La cravatta apposita per questo raggruppamento, benvenuto giudice. Ed eccoci quindi pronti con il cane da pastore Maremmano Abruzzese, cane da pastore Bergamasco, mastino napoletano, volpino italiano, segugio italiano a pelo raso, spinone italiano, bracco italiano, lagotto romagnolo, bolognese, maldese. Piccolo levriero italiano. Abbiamo razze da pastore, razze da guardia, razze da caccia, la selvaggina da pelo, la selvaggina da penna, razze da ricerca del tartufo e splendide razze da compagnia. Per cui va bene. Ecco la selezione per cui pastore Bergamasco, mastino napoletano, spinone italiano, bracco italiano, lagotto romagnolo e maltese. Cane da pastore Bergamasco, una razza da pastore conduttore, estremamente addestrabile, molto legata alla famiglia, anche buon guardiano. Mastino napoletano. Mastino napoletano. Spinore italiano. Grazie per la visione! Bracco italiano bianco-arancio. Grazie a tutti! Lagotto romagnolo. Grazie a tutti! Maltese davanti al nostro giudice Giulio Bezzecchi. Grazie a tutti! Ho l'elenco dei vincitori. Il nostro giudice ringrazia quindi tutti i presentatori. Un giro tutti insieme, grazie! Invito quindi a raggiungere sul podio il nostro giudice Giulio Bezzecchi. Al terzo posto il Bracco italiano. Al secondo posto il Mastino Napoletano. Vince il Maltese! Grazie a tutti! Siamo quindi pronti! Grazie a tutti!